Allora io saluto tutti i nostri tifosi, i vecchi e anche i nuovi, vi aspetto tutti quanti al palazzetto per un altro anno che io mi auguro sia fantastico e agguerrito come sempre e lo sarà ancora di più con il vostro caldo e affettuoso apporto. Un abbraccio a tutti.